Prendete una ciotola, versate due uova, un pizzico di sale, un bicchiere di zucchero bianco. Lavorate il tutto con le fruste elettriche per almeno tre minuti. Dovete ottenere un composto chiaro e spumoso. Adesso versate mezzo bicchiere di olio di semi di mais, mezzo bicchiere di latte, io in questo caso utilizzo la soia. Setacciate mezza bustina di lievito per dolci, farina 00 di grano tenero, un bicchiere, setacciate il tutto. Bene, a questo punto andiamo a lavorare prima fruste spente e poi azionate le fruste elettriche, se no vi schizza tutto addosso, mi raccomando. Setacciate il secondo bicchiere di farina 00 di grano tenero. Adesso setacciate altri due cucchiai abbondanti, come vedete sono cucchiai abbondanti, di farina 00 di grano tenero. Amalgamate prima fruste spente e poi azionate le fruste elettriche, perché anche se sono due cucchiai vi garantisco che schizza davvero tutto addosso. Adesso vi servirà uno stampo a cerniera a diametro 20, imburrate e infarinate, oppure imburrate e mettete la carta a forno come ho fatto io. Eseguite questo movimento, così siamo sicuri che l'impasto si è posizionato bene all'interno della nostra tortiera. Bene, a questo punto vi serviranno due cucchiaini. Dovete prendere con i cucchiaini delle noci abbondanti di nutella e le mettiamo sulla nostra torta. Prima su tutti i bordi e poi man mano andiamo a stringere il cerchio e li mettiamo anche qui al centro. Proprio vado a riempire di nutella la mia torta. E ogni morso questa torta è una vera sorpresa, buonissima. Ho proprio davvero riempito tutta la superficie della nostra torta. Ragazzi, siamo pronti per infornare questa piccola delizia. Con un forno preriscaldato, mi raccomando, a 180 gradi. Ho infornato la mia torta a 180 gradi per 35 minuti. La cottura può variare da forno a forno. Solitamente tra i 35 e i 40 minuti. Consiglio sempre di fare la prova a stecchino. Dopo che abbiamo sfornato la nostra torta, si formeranno, come vedete, dei buchi dove era posizionata la nutella. E quindi abbiamo la nutella all'interno. E noi andiamo ad arricchire la nostra torta con la nutella in superficie. Precisamente dove si trovano i buchi. Una torta davvero super golosa. Bene, a questo punto possiamo spolverare lo zucchero a velo su tutta la nostra torta. Questa torta nasce dal web. È una torta famosissima. E sul web la versione originale è con la crema pasticcera. Io ho voluto personalizzare questa ricetta. Ho dato, diciamo, un tocco alla cartesia, con la nutella. Non ho utilizzato la bilancia e neanche il burro. Guardate come affonda il nostro coltello. È davvero super golosa. Una torta da non perdere. Versate 4 uova. Un pizzico di sale. Un bicchiere di zucchero bianco. Amalgamate bene il tutto. Una torta super veloce, ma soprattutto una torta buonissima. Versate mezzo bicchiere di olio di semi di girasole. Mezzo bicchiere di soia a gusto vaniglia. In alternativa potete utilizzare il latte. Amalgamate bene il tutto. Mezza bustina di lievito per dolci. Due bicchiere di farina 00 di grano tenero. Amalgamate bene il tutto con la vostra forchetta. Lavoro in questo modo la mia torta. Come quando sbattete l'uovo. Verso un altro mezzo bicchiere di farina 00. In totale ho utilizzato due bicchieri e mezzo. Dovete ottenere questa consistenza. Adesso versate tre cucchiai abbondanti di nutella. Come vedete sono cucchiai davvero abbondanti. Anche questa volta amalgamate bene il tutto. Girando così la vostra forchetta. E poi con il solito movimento, così, andiamo ad ottenere un composto omogeneo. Bene, a questo punto il nostro impasto è pronto per essere infornato. Utilizzo una tortiera a diametro 26. Imburrate e infarinate oppure imburrate e mettete la carta forno come ho fatto io. Versate l'impasto all'interno. Livellate bene il tutto. Nutella. Sono mezzi, come vedete, mezzo cucchiaio di nutella e poi lo vado a posizionare all'interno della nostra torta. Ho distribuito 15 mezzi cucchiai di nutella e poi con uno stecchino vado ad amalgamare in questo modo la mia nutella. A questo punto la nostra torta super golosa è pronta ad essere infornata. Infornate con un forno, mi raccomando, pre-riscaldato a 180 gradi. Ho infornato la mia torta a 180 gradi per 30 minuti. Consiglio sempre di fare la prova a stecchino. Facile, veloce da realizzare, sofficissima, buonissima. Perfetta per la colazione o la merenda di tutti i giorni. Guardate, questa torta è una vera delizia. Che dirvi, io spero che questo video vi sia utile. Mi raccomando, iscrivetevi perché ci sono davvero tantissime video ricette super golose in arrivo e tantissime altre ricette che troverete sul mio canale. Attivate la campanella così rimarrete aggiornati su tutti i miei video. E se volete potete seguirmi anche su Facebook oppure su Instagram come Ricette Golose di Cartesia. Se provate questa torta super deliziosa, velocissima, mi raccomando, lasciatemi un commento. E se volete lasciatemi anche un bel like. Una torta semplice e soffice, ma soprattutto da non perdere. Mmm, una torta super golosa. Niente ragazzi, la dovete provare perché è troppo buona. Io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao, alla prossima!